Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio parlare di nuovo dell'azienda farmaceutica Vexin dove mi ha mandato questo fantastico prodotto, ovvero questo drenante a basi di estratti vegetali Allora vi spiego in breve i benefici di questo prodotto Allora, innanzitutto, drena i liquidi in eccesso poi comunque protegge e rinforza i vasi sanguigni ma ha anche un'azione depurativa e anti-stress inoltre contrasta anche gli anestetismi della cellulite e della ritenzione idrica quindi questo prodotto è consigliato per chi soffre di ritenzione idrica e di cellulite si consiglia appunto l'assunzione di 30 ml di prodotto grazie comunque al dosatore in dotazione in un litro d'acqua, quindi che si può bere tutto il giorno davvero fantastico, io vi lascio il link qui sotto per poterlo acquistare per vedere anche gli altri prodotti che comunque vende l'azienda farmaceutica Vexin grazie ancora